ciao a tutti amici security info benvenuti a questa nuova puntata di last week security enterprise siamo qui anche oggi con massimo carlotti di cyberarc ciao massimo ciao gian carlo buongiorno buongiorno a tutti bentornato a questo appuntamento oggi parliamo di una cosa molto importante che dovrebbe coinvolgere l'internazione ed è una cosa che però non comincerà domani diciamo di cosa stiamo parlando massimo stiamo parlando del decreto sulla sicurezza che è stato effettivamente emesso diciamo ratificato in questi giorni esatto quindi diciamo che dovrebbe in teoria coinvolgere molti aspetti della della sicurezza sia quotidiana se vogliamo perché dovrebbe coinvolgere moltissime aziende a partire da quelle di grande interesse quindi del degli asset strategici dello stato fino a scendere in realtà secondo me a livelli decisamente più popolari e che impattano di più sulla vita di tutti i giorni secondo te quali sono gli aspetti più interessanti di questa nuova legge massimo beh ce ne sono diversi il primo è che la diciamo così la competenza la giudiziazione sulla sull'attuazione del decreto legge stesso passa al consiglio dei ministri e quindi a quello che normalmente definiamo l'esecutivo questo è se vuoi il primo passaggio molto particolare questo è un sarebbe un bene occhio e croce nel senso finora è diciamo che la materia della sicurezza informatica rimane all'agit giusto all'agenzia per il digitale italiano esatto questa cosa non ha funzionato alla grande sebbene siano state fatte un po di cose insomma ma secondo te cosa cambierà con questo passaggio beh il cosa cambierà è difficile stabilirlo ora soprattutto in uno scenario come con l'italiano però diciamo che la speranza è quella che passando appunto sotto la giurisdizione di quello che normalmente definiamo esecutivo ai fini pensando perlomeno al governo si possano effettivamente avere interventi più mirati più efficaci e soprattutto tempestivi ecco la tempestività diciamo che è dal mio punto di vista piuttosto teorica nel senso che come fai giustamente notare essendo adesso in mano all'esecutivo dovrebbe essere molto più semplice essere efficaci quello che temo onestamente è che però gli esecutivi italiani non si sono mai distinti per durata di conseguenza cosa succederà adesso ogni volta che devono valutare una situazione ogni quanto si metteranno riusciranno a mettersi davanti a un tavolo a parlare di questa cosa e a centrare tutto sul consiglio dei ministri non rischia di ingolfarlo più di quanto già non sia beh allora diciamo che auspicabilmente ci dovrebbe essere la capacità e la possibilità di strutturarsi magari con degli organi o dei gruppi di lavoro dedicati quindi da questo punto di vista vedo la possibilità che ci sia poi un'attuazione effettiva sicuramente la stabilità di un governo per queste iniziative vale in generale ma se pensiamo iniziative di questo tipo dove la velocità la rispondenza rispetto ai tempi del mercato è fondamentale già siamo partiti prendendoci sono partiti prendendosi circa dieci mesi che è praticamente un anno per la definizione dettagliata del decreto e già questo crea una possibile discrepanza siderale rispetto a quello che sta avvenendo sul mercato per forza tra l'altro dieci mesi sono un'eternità in termini di sicurezza informatica basta vedere quanto sono diversi i report che annualmente le varie aziende rilasciano sullo stato delle minacce sullo stato degli attacchi e tutto il resto ci sono cose che cambiano radicalmente si cambiano le tecnologie cambiano le tecniche degli attacchi gli eventi stessi portano le aziende gli enti in generale l'entità dover in qualche modo intraprendere misure correttive o di rettifica diciamo di correzione di intervento di remediation a fronte di eventuali attacchi discorrendo quindi è veramente un tempo piuttosto lungo tra l'altro una cosa mi ha lasciato un po' perplesso è il fatto che mi sembra molto invasivo come decreto nel senso che in teoria il campo di azione del dello stato sembra essere estremamente ampio si va dal dalle pratiche da suggerire fra virgolette anche se sembra più un'imposizione alle aziende per arrivare alla alla definizione proprio di criteri per le aziende da cui comprare i dispositivi e i software mi sembra veramente molto invasiva a questo giro di solito erano cose più blande di solito erano indicazioni qui invece mi sembrano costrizioni che possono estringere molto il campo della concorrenza addirittura allora è una materia estremamente delicata nel senso che da una parte sicuramente ci sono dei tempi che si sono presi per poter valutare meglio la formulazione del decreto stesso in termini poi concreti effettivi vero è che da una parte c'è timore per quello che potrebbe essere una libera concorrenza nell'ottica di indicazioni troppo diciamo così puntuali che quindi creerebbero rigidità nella scelta delle possibili tecnologie penso appunto agli enti che dovrebbero poi adottare queste stesse tecnologie dall'altra però abbiamo visto in passato che definizioni troppo lasciami dire così politiche o parametriche con dei termini troppo laschi finivano per essere poi inefficaci quindi auspicabilmente anche qui ci vorrebbe un po' di equilibrio nel definire dei criteri sufficientemente stringenti ma che non lo siano troppo mi rendo conto di aver parlato in termini politici a mia volta però qui è veramente una materia estremamente delicata perché da una parte c'è un impatto potenziale sul mercato molto importante dall'altra c'è la necessità di intervenire sul mercato in modo importante quindi sono due esigenze che come si suol dire confliggono e spingono una contro l'altra capisco ma secondo me il punto è sempre lo stesso nel senso che è impossibile definire una legge che possa imporre una struttura di cyber security a qualcuno perché i parametri variano tantissimo da azienda ad azienda da caso a caso però è anche impossibile lasciare tutto all'iniziativa del singolo quello che secondo me servirebbe sarebbe un ritorno al concetto di stato perché il giorno d'oggi siccome si è un po' perso il concetto di stato lo stato è qualcosa che deve semplificare la vita agli utenti e alle aziende lo stato dovrebbe riuscire in qualche modo a stabilire delle regole per avere delle consulenze sulla propria sulla propria sicurezza ti deve dire per essere sicuro tu devi avere questo tipo di diciamo consulenze che ti hanno messo in sicurezza queste aree e non ti dico io che cosa devi fare oppure vedi un po' tu che cosa devi fare l'importante tu sia protetto secondo me lo stato ha bisogno di creare le competenze che mancano le aziende per indirizzarle almeno perché altrimenti poi è il far west o si cade in qualcosa di inefficace ma sai di fatto il governo ha un po' anche il compito di attuare delle normative quindi è fondamentale che stabilisca dei criteri e delle linee guida questo sì credo che sia un ruolo importante anche perché diventa un modo per diciamo così standardizzarle come si suol dire dei ure invece che lasciare che il mercato si limite ad autoregolarsi vero è che non è un compito facile in questa circostanza perché il frangente è fortemente critico c'è un grande componente tecnologica tecnica tecnologica e quindi sarà difficile per il governo trovare e attingere alle giuste competenze visto che continuiamo a dire vedi anche l'intervista la settimana scorsa su quanto manchino competenze di settore in Italia tra l'altro bisogna anche poi vedere cosa succederà con i tempi dei nostri governi cosa succederà ogni volta ci sarà un avvicendamento se avrà delle conseguenze sui tavoli che si saranno nel frattempo organizzati sui tempi delle applicazioni e così via credo che lo sapremo solo vivendo Massimo sì, qui diciamo che il primo requisito a prescindere da schieramenti e orientamenti è quello della stabilità del governo assolutamente attenzione, non voglio entrare nel merito di schieramenti destra, sinistra, centro e via dicendo intendo proprio la stabilità del governo nel seguire questa iniziativa stabilità e competenza perché se poi le cose vengono fatte male è forse meglio che spariscono dopo un po' però mi rendo conto che il discorso è solo dare le nostre competenze poi si entra nella politica, noi possiamo dare delle linee guida di cosa ci piacerebbe vedere di cosa sarebbe sensato vedere ma poi siamo nelle mani dei politici almeno da questo punto di vista due driver fondamentali come abbiamo detto sono le competenze, la stabilità, mettiamo una terza e i tempi certo, la rapidità sarebbe essenziale dovrebbe portare appunto alla soluzione migliore va bene vediamola con un'ottica positiva dai speriamo, siamo ottimisti abbiamo dieci mesi per essere ottimisti va bene Massimo, ti ringrazio e ci vediamo al prossimo appuntamento grazie a te Giancarlo, a tutti buona giornata e buona settimana grazie a tutti Grazie.